Dopo tre pareggi consecutivi arriva la prima vittoria in campionato per il Castiglione, che regola soltanto nel finale il Falco Albino. I Mastini dominano l'incontro con la neopromossa bergamasca, ma nel primo tempo non riescono ad essere incisivi e giocano costantemente sotto ritmo, pur creando numerose occasioni da gol. L'inizio tuttavia è troppo nervoso e una palla persa in difesa rischia di avvantaggiare Ghilardi. Sventa segna con un'uscita tempestiva. Sul ribaltamento di fronte lancio per la discesa irresistibile di Valotti, che entra in area ma non trova lo specchio. I Mastini insistono e al 23esimo è Conti a non inquadrare la porta in mezza girata. Quattro minuti dopo Nicolò Lauricella crossa in mezzo, il portiere smanaccia e Filippo Lauricella serve Campagnari. Conclusione da dimenticare. Dopo il monologo loisiano si vede il Falco. Alla mezz'ora il velenoso tiro di Cortinovis costringe segna a rifugiarsi in corner e al 36esimo la difesa di casa combina una frittata. Pessima gestione di uno spiovente dalla tre quarti. Guagnetti in area è costretto a stendere Maninetti. L'arbitro concede il calcio di rigore. Dal dischetto però Salvatutto segna, che addirittura blocca il pessimo tentativo di trasformazione di Adami. Per il portiere rosso-blu un'altra prestazione d'otto in pagella dopo quella del derby di Castelgofredo. Scampato il pericolo il Castiglione tenta di sbloccarla. Filippo Lauricella lancia ancora Valotti, che però calcia fuori. L'ultimo sussulto del Falco è a fine primo tempo, con la sassata di Crippa, respinta da Segna. Prima del riposo c'è tempo per un'altra bella conclusione di Niccolò Lauricella, messa in angolo da Speroni. Nel secondo tempo Esposito decide di cambiare modulo, passando al 4-2-3-1 con gli ingressi di Corgi, Salvaterra, Pasotti o Morogeva e i risultati si vedono. Al 74esimo croza il bacio di Salvaterra per l'incornata di Pasotti, respinge Speroni. Serve un colpo d'astuzia all'81esimo per scardinare la difesa aerobica. Filippo Lauricella batte a sorpresa una punizione dalla mediana, lanciando Valotti, che entra in area e scarica sul secondo palo, dove l'estremo ospite non può arrivare, 1-0. Il Falco si getta confusamente in avanti e subisce il raddoppio all'89esimo. Pasotti serve in campo aperto Morogeva, che brucia il diretto marcatore, salta anche il portiere e deposita in rete, 2-0. Gare in ghiaccio e tre punti in tasca per il Castiglione. Per ripetersi, nel turno infrasettimanale di mercoledì, sempre a Lusetti col Forza e Costanza, servirà a ripartire dallo spirito visto nel secondo tempo.